un'altra cosa che bisogna tenere ben presente è l'esperienza del turista non è solo quella che il turista vive e che si delinea all'interno della destinazione c'è un'esperienza pre viaggio quindi un'esperienza che inizia nella cosiddetta fase dell'ispirazione un'esperienza che comincia online per esempio che comincia davanti a una pubblicità televisiva oppure una pubblicità di un magazine eccetera in cui io vengo a contatto con la destinazione e vengo ispirato dalla destinazione quindi mi viene l'idea di viaggiare e di andare a visitare questa destinazione questa è già l'esperienza questa è un'esperienza pre viaggio che bisogna però curare anche qui ci sono dei punti di contatto che bisogna presidiare e quindi bisogna partire dalla presenza online della destinazione come presente la destinazione qual è il messaggio che taranto vuole può dare al fine di ispirare il viaggiatore ideale che può essere ispirato da taranto quindi da questo primo momento dare la possibilità poi di prenotare un soggiorno a taranto e questo lo bisogna bisogna fare attraverso delle tecnologie che riguardano appunto il travel il viaggio che sono ormai molto frequenti nel nel turismo e poi c'è tutta quell'esperienza del viaggio in sé e qui ci sono i mezzi di trasporto e quindi bisogna vedere quali sono le modalità in cui il turista può raggiungere tanto il problema della cosiddetta accessibilità esterna e bisogna curare anche questi aspetti bisogna curare anche questi aspetti quando si parla di accessibilità si parla di un rapporto fra valore e sforzo un rapporto valore fratto sforzo e che significa valore fratto sforzo significa che maggiore lo sforzo che un turista deve fare per raggiungere una destinazione perché ad esempio i mezzi di trasporto non sono buoni perché l'aeroporto è lontano perché l'autostrada non c'è perché i treni ad alta velocità non ci sono eccetera se il denominatore ecco quindi è consistente bisogna cercare di aumentare il nominatore quindi se lo sforzo è tanto bisogna cercare di aumentare il valore della destinazione che se il valore della destinazione è ridotto io non sarei mai portato ad affrontare uno sforzo molto consistente mentre se lo sforzo è ridotto io sarei portato a visitare una destinazione di poco valore perché tanto lo sforzo è ridotto nel caso in cui lo sforzo sia di un certo tipo ebbene chiaro devo cercare di aumentare il valore della destinazione in tutta la cura dell'esperienza della destinazione il fine è esattamente quello di aumentare il valore di ridurre lo sforzo che si richiede al turista quindi bisogna un po studiare come si arriva tanto quindi attraverso i mezzi di trasporto che ci sono aerei treni auto e poi ancora i punti di accesso a taranto sono importanti questo è l'inizio dell'esperienza nella destinazione sono importanti non solo dal punto di vista estetico ma proprio perché noi dobbiamo cercare di ridurre lo sforzo di aumentare il valore quindi valore anche estetico ma ridurre lo sforzo significa aumentare i servizi no significa far sì che siano presenti tutti i servizi e qua parliamo della stazione parliamo della stazione dei treni della stazione dei bus parliamo dell'arrivo quindi dalla statale in macchina tutti questi punti di accesso devono essere presidiati e curati non solo nel ridurre lo sforzo ma nell'aumentare il valore che può essere anche estetico quindi la costruzione di un prodotto turistico a destinazione nasce proprio da questi punti di accesso anche se abbiamo detto proprio in questo momento che la costruzione di un prodotto turistico parte già prima nel momento dell'ispirazione ma adesso siamo arrivati ai punti di accesso che bisogna presidiare di accesso che bisogna presidiare